526. Corridoi vuoti, silenzio, porte chiuse. Si presentano così gli uffici della provincia regionale di Agrigento da tre giorni ormai senza le sue istituzioni, spedite definitivamente a casa da una recente legge regionale. Presidente, Giunta e Consiglio hanno fatto le valigie. Tutti e nove gli enti siciliani non avranno più organi democraticamente eletti dal popolo. Entro fine anno infatti dovranno nascere, riforma Lars permettendo, i liberi consorsi fra i comuni. Qui ad Agrigento Eugenio Dorsi è stato già consegnato alla storia. Un suo ritratto è andato ad arricchire la galleria dei presidenti. Il suo posto in questa fase di transizione nelle vesti di commissario straordinario sarà preso da Benito Infurnari, 72 anni, originario di Racalmuto, dirigente in pensione. È stato nominato ieri dal governatore Crocetta. Noi lo abbiamo incontrato. È stata per me una sorpresa perché sono già a riposo dal 2004. Nel 2005 ho espletato un incarico di commissario straordinario alla provincia regionale di Trapane e da allora solo il pensionato. quindi mi sono dedicato alla famiglia. Però l'ho accettato, ho dichiarato la mia disponibilità perché sono stato qui segretario generale al comune di Agrigento per circa 20 anni con alcune pause, interruzione dei servizi. Alla provincia di Agrigento ho prestato servizio come segretario reggente per sostituzione di segretari assenti. Quindi conosco la realtà dell'ente provincia. Ha accettato subito oppure ha avuto qualche remora? Guardi, ero un po' così frastornato perché quando uno passa tanto tempo dall'ultimo impiego ci ho pensato, ho detto ancora devo sperimentare, acquisire nuove esperienze e accettare questo incarico di guidare la provincia in questo periodo transitorio, quindi guidare una gestione tecnico-amministrativa per il traghettamento nella nuova configurazione giuridica a seguito della legge sull'abolizione delle province. Quanto si insedierà? Ma credo appena avrò comunicazione dalla Presidenza, quindi registrazione del decreto, a giorni credo che avrò comunicazione e ci sarà l'insediamento. Come si muoverà? Ma io sempre nella mia vita ho provuso molto impegno nel lavoro, quindi con impegno, con obiettività, cercando il compronto, la collaborazione tra dirigenti e con le associazioni, con i sindacati. Parlerà con Euginio Dorsi? Perché no, il Presidente uscente lo incontrerò, ci sarà un saluto, un incontro sicuramente. Era presente nell'ultima seduta in assoluto il commissario straordinario della provincia regionale di Trapani, Darko Pellos, che ha rivolto il suo saluto a tutti i consiglieri per l'attività fin qui svolta. Poi il Presidente Poma ha tracciato il bilancio di questo quinquennio che va dal luglio 2008 a giugno 2013 e lo considera più che positivo, semmai le vere difficoltà secondo Poma cominceranno da qui in avanti, dopo la soppressione degli enti provincia decretata dalla legge regionale del 27 marzo scorso. Infatti, ha detto Poma, la regione siciliana ha compiuto un vero e proprio salto nel buio, le cui conseguenze cominciano ad essere drammatiche in termine di mantenimento dei servizi, dall'incertezza che grava sulla sopravvivenza dell'aeroporto Birgi gestita dall'AirGest, dalla società di servizi Megaservice, dal polo universitario di Trapani, dalla Funierici, dalla biblioteca fardelliana, dall'uglio musicale trapanese e così via, nonché di tutti gli istituti scolastici provinciali. Avviandosi poi alla conclusione, Poma ha manifestato la speranza che si metta fine ad una politica fatta di roboanti dichiarazioni e di proclami ad effetto e che di fatto non riesce a raggiungere traguardi importanti, non riuscendo a garantire il funzionamento delle strutture e dei servizi essenziali per lo sviluppo del nostro territorio.